Buongiorno e bentrovati all'appuntamento con l'informazione su Telefriuli. Il Governo ha varato ieri le misure per contrastare la quarta ondata del Covid per salvare il Natale, come ha detto il Premier Mario Draghi. Non solo Super Green Pass, ma anche estensione dell'obbligo vaccinale ad altre categorie. Non cambia nulla sulla durata della validità dei tamponi e sull'utilizzo delle mascherine. Sentiamo. Istituzione del Super Green Pass dal 6 dicembre al 15 gennaio, anche in zona bianca. Istituzione dell'obbligo vaccinale a nuove categorie e per la terza dosi ai sanitari. Rafforzamento del sistema dei controlli. Campagna promozionale a favore della vaccinazione. Si traduce in questi provvedimenti l'azione del Governo per evitare il dilagare della pandemia, che il Paese torni a fermarsi e, come ha detto il Premier Mario Draghi, per salvare il Natale. Il decreto approvato ieri riduce la durata di validità del Green Pass da 12 a 9 mesi. La certificazione verde sarà obbligatoria anche per alberghi, spogliatoi per l'attività sportiva, servizi di trasporto. Il 6 dicembre scatta il Green Pass rafforzato, che consente solo a chi è vaccinato o guarito di accedere ad attività che altrimenti sarebbero oggetto di restrizioni in zona gialla. Spettacoli, eventi sportivi, ristorazioni al chiuso, feste, discoteche, cerimonie pubbliche. Il decreto legge prevede inoltre di estendere l'obbligo vaccinale alla terza dose per i sanitari dal 15 dicembre. Dalla stessa data entrerà in vigore l'immunizzazione obbligatoria anche per il personale scolastico, per quello del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico. Sulla terza dose il Governo ha annunciato di volerla aprire dal 1 dicembre agli over 18. Non ci sono novità per quanto riguarda la validità dei tamponi, 72 ore per il molecolare, 48 per il rapido. Nulla cambia per le mascherine che restano obbligatorie all'aperto, oltre che al chiuso in zona gialla, arancione e rossa. Il decreto infine prevede che i prefetti, sentiti comitati provinciali ordine e sicurezza, entro cinque giorni dall'entrata in vigore del DL adottino il nuovo piano di controlli costanti, coinvolgendo tutte le forze di polizia. A Lignano non ci sarà alcun Capodanno Novax. Il sindaco di Lignano Sabbiadoro ha chiesto e ricevuto la conferma formale che l'evento di Capodanno, organizzato dal villaggio Bella Italia per l'Associazione Liberi si nasce, non si terrà in quanto annullato dai vertici della stessa struttura ricettiva Bella Italia, presente sul territorio lignanese. Si precisa che l'evento di qui sopra era e rimane del tutto legato all'iniziativa di privati. Ciò non ha tuttavia impedito all'amministrazione comunale di intervenire pubblicamente per chiedere un passo indietro da parte degli interessati. Di qui la rinuncia formale, giunta in queste ore al sindaco Fanotto, il quale esprime la propria soddisfazione e auspica un senso di responsabilità da parte di tutti in un momento estremamente delicato per la regione Friuli Venezia Giulia e per l'intero paese. L'alternativa alle misure, soprattutto dalla zona gialla in poi, non era un'apertura per tutti ma una chiusura generalizzata per i vaccinati e i guariti. Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della conferenza delle regioni, Massimiliano Fedriga, commentando il nuovo decreto varato dal governo, intervenendo a Non è l'arena sulla 7, Fedriga ha poi precisato Noi in realtà dalla zona gialla in poi stiamo aprendo di più, non di meno. Stiamo garantendo di più le attività produttive, ristoranti, bar, alberghi, non viceversa. Il governatore ha ringraziato il premier Mario Draghi per la collaborazione che ha voluto con le regioni e le istituzioni del territorio. Un passaggio importante in momenti di emergenza nazionale, ha precisato. Fedriga si è quindi soffermato sulla posizione dei governatori della Lega. Tutti insieme abbiamo espresso perplessità sull'anticipo del Green Pass in zona bianca. Questo non perché non ci rendiamo conto della situazione, ma perché dobbiamo tenere quel difficilissimo equilibrio che c'è tra la lotta e la pandemia, che deve essere prioritaria, e la tenuta sociale. Non a caso il risultato di equilibrio è la misura del Super Green Pass, anche in zona bianca, dura fino al 15 gennaio, quindi è una parentesi. Il presidente ha affrontato anche la questione della responsabilità di scelte difficili. Ogni giorno mi sveglio con i dubbi, ha detto. Cerco di fare delle scelte che tutelino al massimo la salute, il sistema sanitario e quello produttivo. Non credo di fare le proposte perfette, ma cerco di guardare la concretezza sapendo che non voglio ideologizzare una pandemia e che bisogna prendersi le responsabilità, fare anche scelte forse non popolari. Ma la sera voglio dormire con la coscienza a posto. Si infiamma il dibattito a Udine sulla modifica dello Statuto Comunale che il lunedì prossimo, a meno di clamorosi passi indietro, dovrebbe passare in Consiglio Comunale. L'articolo è il numero 9 ed è quello relativo alla tutela della famiglia. Non farà più riferimento in modo generico al riconoscimento dei diritti della famiglia nella comunità, ma, richiamandosi alla Costituzione, parlerà di società naturale fondata sul matrimonio. Ieri sera il tema che sta rimbalzando anche sulle testate nazionali è stato affrontato a screenshot. Vediamo un estratto. La Costituzione del 1948 è ancora valida sotto questo aspetto, però non è sufficiente. In questi 70 anni è innegabile che il concetto di famiglia sia cambiato e stia cambiando ancora, proprio di recente. Poi se cominci ad andare a scavare, ci sono delle state delle leggi, cito la più famosa in assoluto, quella sul divorzio, che quantomeno ha dato una visione del matrimonio in maniera non tutta rosa e fiori, quello che potrebbe essere. La recente legge di Cirinà ha posto, ha dato una risposta a un qualche cosa che era un po' detto sì, ma non si andava avanti solo a sentenze. Il matrimonio messo lì così com'è è un balzo indietro di 100 anni. In questo statuto 40.000 persone, 35-40.000 persone, anche se non lo diranno, tecnicamente non si riconoscono. Il modello culturale che in questo momento viene rappresentato dalla maggioranza che amministra il Comune di Udine è un modello che sicuramente guarda a tutte le forme di convivenza, delle esperienze che ci sono. Quello che noi vogliamo dire è, cari cittadini, attenzione, per noi comune, per noi amministrazione, è una cosa importante, è una cosa da promuovere, quello che in qualche modo il vostro rapporto abbia una certa stabilità. Noi abbiamo ritenuto di rifarci alla Costituzione. La Costituzione segue, perché sono coordinati con la Costituzione tutte le leggi che vengono successivamente. L'importante è che venga tutelato, non è che io dico, ah, se tu non ti sposi allora sei fuori, o non devi riconoscerti. Si riconoscono benissimo. Non scrivere matrimonio. Un'occasione per la Polizia di promuovere la campagna di prevenzione, questo non è amore. La Polizia di Stato è impegnata da tantissimi anni con la campagna questo non è amore, una campagna permanente per insegnare anche alle donne quali sono i canoni del non amore. Molte donne purtroppo subiscono violenza, ci sono stati episodi di femminicidio molto, anche di recente, purtroppo molto gravi e che hanno toccato giovani donne. La nostra è una campagna tutto tondo perché parla appunto di violenza di genere e quindi una campagna che parte sin dalla prima età sensibilizzare i bambini già dalle scuole, dalle scuole primarie per poi arrivare fino alle secondarie sul fenomeno, sull'importanza del volersi bene, del rispetto della persona. Il fenomeno è, dicevo come prima, purtroppo sempre attuale perché c'è una difficoltà a denunciare nonostante ci siano sulla rete, nella rete, tantissime agenzie che si occupano per promuovere. Ma vi arrivano anche telefonate direttamente per segnalare la donna? Diciamo che quando arriva da noi arriva la denuncia, quindi arrivano i referti medici delle donne che hanno fatto accesso al pronto soccorso dove hanno poi rilevato una violenza intrafamiliare, arrivano dallo sportello di ascolto, dagli sportelli locali ma anche dai centri antiviolenza, arrivano direttamente anche a noi oppure attraverso l'intervento di personale appunto del controllo del territorio di una volante che interviene all'interno di un nucleo e verifica una situazione di violenza framiliare. Un racconto attraverso i ricordi e le foto da bambino ai grandi successi raggiunti. A sei mesi dalla scomparsa di Alessandro Talotti, la mamma Paola Valmassoi si confida alle telecamere di donne allo specchio. Ecco un'anticipazione della trasmissione che andrà in onda questa sera alle 22. L'amore di una mamma per un figlio è infinito quanto la volontà di seguirlo fino al suo ultimo abbraccio. Lo ha dimostrato Paola Valmassoi, la mamma di Alessandro Talotti, morta sei mesi fa all'età di 40 anni. Una donna che riesce a trovare la forza per andare avanti attraverso le foto del sorriso di suo figlio. Non credevo di farcela così. Non credevi? Si sente la presenza. Poi mi diceva anche l'ultima, mi diceva mamma guarda che io ho vissuto 40 anni, vorrei vivere ancora, però guarda che le ho vissuti bene. Certo è una grande mancanza, tanto grande, a volte ti attanaglia. però mi sento anche serena perché ho fatto quello che dovevo fare. Non ho rimorsi, da dire non l'ho seguito, oppure mi sento serena che ho dato tutto, ecco. Una mamma presente sempre. Sempre. Presentato questa mattina a Trieste il progetto Recap per il recupero delle capsule di plastica del caffè. Assessore Scocimarro, con Recap un progetto per il recupero delle capsule di plastica del caffè. Siamo tra i primi in Europa a portare avanti un progetto che diventa reale, concreto, verso l'economia circolare. Certo, passiamo dalla poesia alla prosa e andiamo nello specifico a mettere insieme due grandi colossi del caffè con tre società regionali di raccolta e riciclaggio dei rifiuti per andare nel senso di questo progetto Recap che andremo a utilizzare le cialde di plastica appunto del caffè. Una cosa innovativa, siamo i primi certamente in Europa e va nel senso di quella che è il riciclo dell'economia circolare. Quindi andiamo nel dettaglio, nei fatti a poter riciclare questi materiali. In chiusura lo sport. L'udinese ha presentato oggi la terza maglia della stagione 2021-22. Si chiama Anniversary perché celebra i 125 anni della storia del club attraverso i luoghi storici che hanno caratterizzato le divise bianco-nere. Sarà indossata dalla prima squadra domenica 28 novembre in occasione di Udinese Genoa, nella giornata in cui avranno luogo i festeggiamenti che inizieranno nella mattinata. L'anniversario del 125esimo compleanno del club friulano cade martedì 30 novembre. E per il momento è tutto, io vi ringrazio per essere stati con noi e vi lascio con A voi la linea. Buon pomeriggio. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.